Questa ragazza cubana si chiama Tsunami e già è tutto un programma. Come stai? Benissimo, alla grande, sì. La serata tutto ok? Fino adesso, guarda, dipende quando arrivo a casa. Per il momento tutto ok. Allora, qualche piccola domanda. Conosci Fiat? Sì. E Galdieri Auto? Certo. Guardiamo la telecamera. Eh, certo, perché c'è la macchina così. Ah, ok. Che macchina? Una Fiat. Modello? 500. Ok, perfetto. Partiamo già bene, perché Fiat quest'anno esce con tre nuove auto. La 500L che è l'utilitaria, la Trekking che è la 4x4 e la Living che è la 7 posti. Tu sceglieresti la rossa? Certamente. Un'altra utilitaria, un'altra 500L per noi. Tsunami sceglie 500L. Eh, perché è rossa, la rossa è passione. E poi c'è le marci di una maniera splendida. Splendida. Sì. Tsunami, grazie mille. Intervista semplicissima. Grazie a te, è un piacere. Ciao a tutti.